In uscita ha portato a termine un'operazione molto importante perché avete ceduto le prestazioni sportive di Migliorini al Torino. Sicuramente abbiamo fatto un'operazione che ci rende orgogliosi. Oggi con oggi riuscire a prendere un giocatore, non parliamo di ragazzo ovviamente, ma un giocatore vero con la Serie A, probabilmente almeno nella storia moderna dell'agghi di calcio è la prima volta che accade. Abbiamo ricevuto un riconoscimento economico da parte del Torino, come la logica è tutto che fosse. Sono delle situazioni che quantomeno aiuteranno il nostro Presidente a cercare di rimetterci il meno possibile. Noi lo scorso anno con la seconda squadra, con l'età media più bassa di tutto il giurone, abbiamo sperato un'impresa incredibile. Quindi ripartiamo da quella condizione, da quel lavoro svolto e sicuramente faremo una squadra dall'età media bassa. Però il nostro obiettivo fondamentale adesso è quello di parlare con i ragazzi tra piccolette netti, non di capa di identità, ma di militanza. Io credo che se riuscissimo a tenere Alessandro, faccio tre nomi a caso, quelli che mi vengono in mente, Alessandro, Armadio, Pepe, penso che possano essere dei top player assoluti. Ma non trascuro del Pinto, non trascuro Berardino, non trascuro Bigoni, ripeto, questi sono giuratori che hanno dimostrato sul campo di essere dei cosiddetti top player per usare un nome che oggi va di modo.